Ciao, io sono Emanuele, ma se segui questo canale mi conosci già. Sono un diabetico di tipo 1 da più di 15 anni e sono iscritto alla facoltà di medicina, sono al secondo anno. Oggi di cosa parliamo? Siccome in Italia non sono ancora usciti e non sono disponibili in commercio il Freestyle Libre 3 e i Dexcom G7, andiamo a vedere come funziona nel resto del mondo. Quello che andrò a fare in realtà è prendere un video che è già disponibile online, in questo caso è uno youtuber americano che parla e che ha anche intervistato il CEO della Dexcom, in questo caso, per poter poi andare a vedere effettivamente quali sono le vite di tutti i giorni, miglioramenti, le cose funzionano peggio, bla bla bla, le solite cose. Cominciamo. Con più di 900.000 usati globalmente, Dexcom è un giro CGM e abbiamo molto a guardare nel 2021 con l'inizio molto anticipato del nuovo Dexcom G7. Quindi, per felicitare l'inizio molto anticipato del nuovo Dexcom G7 e il fatto che l'UK è in realtà hostendo un G7 Summit questo anno, credo che vi raccontare tutto ciò che bisogna sapere del prossimo Dexcom G7. Ha fatto la prima battuta sul fatto che il Dexcom G7 esce proprio quando da lui in Inghilterra stanno facendo il G7 e non so se devo ridere o devo piangere ma andiamo avanti. In questo video, sto raccontando tutto ciò che conoscemo di Dexcom G7. Quindi, facciamo a partire da l'inizio e parlare di un G7. Il G7 è il Dexcom's prima di un all-in-one all-in-one sensor. Quindi, il trasmittore è realizzato in un senso, quindi è un all-in-one. Quindi, fino adesso, dal primo Dexcom G7 all'in-one all the way all the way to Dexcom G6. There was always a transmitter and a sensor and they worked together to measure your glucose level. Well, with Dexcom G7, Evan is built into one very similar to what we have with the Freestyle Libre. Beyond this, Dexcom G7 will be 60% smaller compared to Dexcom G6. Dunque, stai elencando adesso una serie di caratteristiche che sono quelle che puoi trovare in un altro video, ma ve li riassumo in è più piccolo ed è in uno, non c'ha pezzi intercambiabili, come ad esempio il rare e avere il trasmittitore che potevi riciclare ogni tre mesi, ma qui è tutto in uno, quindi è il primo sensore Dexcom tutto in uno, diciamo così. Infatti, lui dice all-in-one, ma in realtà non è nulla di super eclatante. Non era questo quello che interessa, quello che interessa poi effettivamente che sia un CGM. CGM è quello che continua a misurarti a glicemia e ti inviei segnali senza che tu lo debba controllare il tipo Freestyle. Il Freestyle Libre 3 in teoria, no, in teoria, è un CGM, la differenza del 2 e dell'1, quindi ecco, andiamo avanti. ...is compared to G6. Now, this is not, like, hugely precise, but just to give you some flavour of just how much smaller G7 is when compared to the G6. The sensor itself will last for 10 days, so it has the same wear time as the current G6. However, Dexcom is already working on extending that wear time to 14 to 15 days, which was the original plan. So, at launch, it will be 10 days, so you will need free sensors per month. Well, for most months, you know what I mean, some months are like 31 days, some are 28 days, but, you know, roughly free sensors per month. Sì, ha detto che all'inizio, cioè al lancio, durerà circa 10 giorni, e poi lo stenderanno a 14-15, che sono invece i loro obiettivi sul prodotto in sé, però anche come sul Dexcom, cioè ti dicono che durerà 10 giorni, però lo puoi far durare di più in realtà. If you want to learn more, just open the calendar up on your phone, and you see what I mean, but eventually it will be extended to 14 to 15 days, so that you only need two sensors per month. We don't have timings on when the extension will happen, but we know that Dexcom is working on it, and they've already done similar things in the past, so in South Africa, they had a Dexcom G6 Plus system, so the Dexcom G6 Plus sensor lasted for 14 days, as opposed to 10 days that we have. It has since been removed from the market, but we know that G7 will ultimately be a two-week sensor. In terms of accuracy of G7, it will be just as accurate as G6, if not more accurate. We don't know exactly what the MARD, the accuracy number of it, will be as of today, because Dexcom is still performing some final clinical trials, but it looks like it will be more accurate than G6. Now, it will most importantly meet the ICGM accuracy specifications. Ok, sta dicendo in realtà che sarà molto più preciso per quanto riguarda la misurazione del glucosio, specie quella delle glicemie basse, e inoltre lui lo definisce un ICGM, nel senso che è ibrido, nel senso che può essere collegato a diversi sistemi, bla bla bla, quindi si può connettere ad esempio con il cellulare, piuttosto che altro, credo che si riferisca a questo, intende sistemi ibridi a circuito chiuso, li chiama lui, quindi non credo che ci sono due cose che interagiscono tra di loro, tipo pancreas artificiale, che tra l'altro uscirà un video anche su questo argomento, più avanti. E niente, andiamo avanti. E niente, che è molto più accurato, ma soprattutto in la loro regione di glucosa. Ovviamente, è un ICGM, quindi è inoperabile, quindi può essere collegato a diverse hybrid closed-loop systems, collegato pens, e app, e tutto in between. Now, pari di hybrid closed-loop systems, ho apprezzato un commercial hybrid closed-loop systems diagram and I've done a video about all 10 commercial hybrid closed loop systems ok questa è una bella tabellina e in realtà non lo sapevo ma è super figa questa cosa cioè ti mostra tutti i vari sistemi con cui è compatibile credo il G6 attualmente non credo che sia il Libre 3 e il Libre 3 è il G7 però penso che sia il G6 e ecco quindi buono può connettersi con un sacco di cose non ne avevo idea ottimo del G6 attualmente il G7 attualmente sarà un nuovo app allora hanno detto un paio di cose cioè ci sarà una nuova app questa ho detto anche nell'altro video ma questa nuova app in realtà sarà semplicemente un miglioramento del design che questa cioè vabbè ma cosa più importante ci sarà un ricevitore a basso costo cosa che prima non c'era visto che non ricordo quanto costo adesso vado a controllare sono appena un ricevitore costa 676 euro il trasmettitore quello che va cambiato ogni tre mesi sono 300 quindi ok non so che parametro abbiano loro di basso prezzo però va bene abbiamo un app dedicato Apple Watch app so che puoi vedere la data dell'aglucosa sull'aglucosa 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 non c'è ancora una parola di direc to watch ma spero che G7 sarà lancato con una direc to watch feature dal getto quindi per chi non lo so che non lo so direc to watch è stata un'aglucosa in partnership con Apple in 2017 and basically it means that when it is enabled I will be able to go for a walk leave my phone at home and my Dexcom G7 would connect directly to the watch so all the alarms, the data, my graph, trend, everything like that will be sent directly to the watch ok questo detto una cosa che è super super interessante cioè ovviamente ci sarà l'app per l'orologio questo qua nel video che avevo fatto su Dexcom G6 infatti avevo fatto vedere che c'era l'orologio ma cosa più importante avevo detto guardate all'epoca all'epoca almeno sono passati due anni cioè attualmente non si può ancora fare non si può ancora lasciare il telefono a casa senza l'orologio cioè serve il telefono come intermediario questa è una funzione che ha lanciato Apple nel 2017 cioè in realtà questo è quello che dice lui e ad esempio vi faccio un esempio banale ad esempio Spotify da tipo qualche mese ha permesso di potersi di poter lasciare il telefono a casa ascoltare e scaricare le canzioni direttamente sull'orologio se hai l'account premium e poi usare solo l'orologio ad esempio quando vai a correre io lo uso così ecco il punto è che non so quando lo implementeranno lui non dice non so se lo implementeremo se lo implementeremo non so se quando uscirà ci sarà direttamente questa caratteristica cioè sostanzialmente se lo auguro me lo auguro anch'io perché sarebbe super comodo penso ad esempio tutte quelle volte che facevo attività sportiva che avrei potuto lasciare il telefono a casa e i telefoni che ho gestito solo con il sudore perché all'epoca non resistevano all'acqua quindi no sarebbe una cosa veramente super super utile allora in realtà poi dice cose che in realtà ho già visto quindi non sto qua a vedere tutto il video cioè andatelo direttamente sul suo canale e ve lo lascio ovviamente linkato in descrizione comunque pensavo ci fosse qualcosa di più in realtà non c'è assolutamente niente diciamo che avrebbe lanciato entro il 2021 eppure guardando anche qualche canale americano o estero non trovo nulla quindi in realtà non sono sicuro che l'abbiano lanciato dopo cercherò magari mi scrivo qualcosa mentre punto il video la cosa più importante è secondo me il mio modesto parere per l'utilizzo che ne avrei fatto io è il direct to watch ovvero la possibilità evitare appunto di dover portarsi il telefono dietro costantemente in ogni situazione quello sarebbe stato davvero molto molto comodo anche se bisogna vedere cioè provando a cercare in giro adesso ho visto che dicono che uscirà così ma non essendo ancora uscito perlomeno non ho trovato niente che dica che sia uscito non saprei confermarvi oppure dirvi di no su questa cosa io spero che il video ti sia piaciuto in modo che puoi lasciare un mi piace un commento e iscriverti sul canale comunque puoi trovare anche altre informazioni riguardo come si gestisce il diabete informazioni sui sensori, app utili lascio un video breve o più in generale come si gestisce anche il diabete con lo sport, attività fisica e diversi tipi di esperienze e situazioni diverse spero che questo video ci sia stato d'aiuto in caso non ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!